Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono due chilometri di coda causati da un incidente nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. In A11 segnalati problemi all'area di servizio di Peretola in direzione Pisa. Su raccordo Siena-Firenze è chiusa una corsia tra Bargino e San Casciano Sud e tra Sandonato e Tavarnelle in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia ha chiuso lo svincolo di Follonica Nord in direzione Roma. Sulla statale 3 bis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Madonnuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord e tra Val Savignone e Canili. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!